Le fontene di lava emesse dai criteri sommitali del vulcano e particolarmente spettacolari possono essere precedute da peculiari segnali infrasonici, la cui elaborazione permette di vedere la progressiva risalita del magma all'interno del condotto circa 24 ore prima dell'inizio della fontana stessa. Questi i risultati dello studio condotto da un team internazionale di ricercatori dell'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dell'Università di Catania, Nuova Zelanda e gli State University. La ricerca è stata appena pubblicata su Scientific Report. Dal 2000 ad oggi le fontane di lava sono tra le più frequenti manifestazioni eruttive dell'Etna. I getti di lava continui e di altezza variabile tra i 200 e oltre i 1000 metri possono durare da mezz'ora a circa due ore. L'infrasuono è un segnale acustico di bassa frequenza non udibile all'uomo, le cui registrazioni mediante appositi microfoni sono sempre più utilizzate dagli osservatori vulcanologi per il monitoraggio. Infatti i vulcani si comportano come enormi strumenti musicali e generano segnali acustici prevalentemente in banda infrasonica sia durante le attività eruttive che durante i semplici declassamenti. In particolare i condotti vulcanici risuonano come canne d'organo le cui note dipendono per lo più dalla lunghezza della canna. Il team dei ricercatori ha scoperto che la fontana di lava del 20 febbraio 2021 è stata preceduta da un intenso segnale acustico in banda infrasonica emesso dal cratere di sud-est oltre 24 ore prima dell'inizio dell'eruzione, caratterizzato da un progressivo aumento in frequenza. Dal punto di vista della pericolosità vulcanica, sebbene le colate accompagnate alle fontane non abbiano grande impatto sulle infrastrutture al suolo, data anche l'altitudine alla quale si verificano, questi parossismi producono nubi di cenere alte anche oltre 10 chilometri, che determinano ingenti disagi sia al traffico aereo sia ai paesi etnei a causa della cenere che depositano. Un attento monitoraggio risulta quindi indispensabile. Con questi strumenti si cerca di nettificare segnali precursori delle eruzioni che siano legati alla risalita del magma lungo il sistema di alimentazione del vulcano. Grazie.